I numeri dicono che ha subito solo due gol, ne ha fatti sicuramente pochi, ma è una squadra che si ha 12 punti, vuol dire che è una squadra solida, e i numeri nel calcio sono quelli che contano, sono sempre sempre solo e sempre i numeri, e i numeri dicono che questa è una squadra che subisce poco, ma magari fa poco là davanti, ma ha 12 punti, e quindi è una squadra da avere attenzione, ma come lo sono tutte le squadre da avere attenzione, come diamo sempre importanza ad ogni gara, quindi la stiamo preparando, è logico preparare una partita, sappiamo che giochiamo in casa, sappiamo che giochiamo davanti al nostro pubblico, il quale pubblico ancora una volta ci ha dato dimostrazione, domenica ad Avezzano i nostri veri tifosi di sostegno, hanno riempito il campo dandoci il calore, e non c'è giorno che non ci fanno sentire attestazioni di affetto nei nostri riguardi, quindi noi sappiamo l'importanza della gara, sappiamo l'importanza che abbiamo in casa nostra, e quindi la stiamo preparando nel miglior modo possibile.